No, 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 niente, non abbiamo niente. Buonasera. Salve. Così, eh, controllo. E abbiamo detto adesso alla collega che non abbiamo niente da dichiarare. È un semplice controllo. Sì, ma noi siamo marito e moglie, è che stavamo un attimino... Sì, va bene, ma è un semplice controllo. È un semplice controllo, dai. Non c'è niente da preoccuparsi. Ah, sì. Fate i piatti. Da dove venite? È da... L'Orse. L'Orse, sì. L'Orse, sì. Che è un pellegrinaggio, madonna. Questa cos'è? È quella... Quella è l'acqua... L'acqua... Benedetta. Santa. Santa di luce. Ecco, che... Acqua santa. Acqua santa. Vado, piano. Ok. Vado. Acqua santa. Acqua santa? Sì. Da Lourdes? Da Lourdes. È benedetta quella. Questa è grappa. Eh? Questa è grappa. È grappa. È grappa. Grappa. Miracolo. 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 È miracolo. Miracolo. conditions on. Miracolo. Miracolo. No, no. Miracolo. Oh no! Oh no! Non ho visto che è da un'oretta che sta... Un'oretta? Non lo so che sta facendo con... Che sta segnando? Un'oretta, è da stamattina che sto qua io, mio caro signore. Ma che sta facendo? Che sto facendo? Io sono un messo comunale, lavoro per il comune. E il comune mi ha detto di venire in Piazza San Marco. A contare i piccioni. A contare i piccioni? A contare i piccioni. Vedo che sta impazzendo però. Impazzendo? E che si muovono. Sono in movimento stanno. E che così? Per un milione e due che prende il dipendio. Il nero quando viene? 600 euro. Non è che sto a dire feserie io. Va bene, buon lavoro. E poi sto a dire contami i piccioni. Buon lavoro. Ciao. Fai schifo. Fai schifo. Fai schifo. A quest'ora, ogni volta, è una cosa veramente che io sono stanca. Non ce la faccio più. Domani trovi il garage chiuso. Con le cose chiuso dentro il garage. E la roba è tua. Tutto nel garage. No, guarda. Non ce la faccio più. Ogni notte, ogni notte è la stessa storia. Fai schifo. Hai capito il fatto com'è? Fai schifo. Tutte le sei. Tutte le sei. E poi si può sapere che ora è. Sono... È l'una. Ho capito che è l'una. Non c'è bisogno di ripetere quattro volte, eh? È ripetitivo, eh? Ho capito. Ho capito che è la sua England.